Ciao Enea, amore! Lui è Enea, un maremmano buonissimo di 50 chili e di circa tre anni, trovato a Ginosa qualche mese fa dopo che ce l'avevano segnalato all'interno di un vivaio. Lui si era presentato lì, all'interno di un vivaio sulla strada statale, con le macchine che sfrecciavano, ma non proveniva dalla strada, proveniva dall'entroterra. Chissà da quale masseria arrivava. Enea è sicuramente stato appunto in campagna, non in casa. Era in condizioni pessime, sporchissimo. Il suo pelo tutto annodato, con zolle pesantissime di terra che si erano asciugate nel suo mantello. Abbiamo tentato di spazzolarlo, ma poco si è riusciti a fare. Ancora oggi lui ha dei nodi e delle erbe, proprio tutte intessute nel pelo. Enea si dal primo momento è stato buonissimo, non c'è stato assolutamente problema a prenderlo. Quando l'abbiamo preso, messo in macchina e poi fatto scendere qui in canile, nessun problema. Lui buonissimo. Un cane di queste dimensioni, veramente che dovrebbe incutere timore, a noi non ha affatto impressione perché si vedeva che aveva lo sguardo buono, quello che ha adesso. Enea non sappiamo come abbia vissuto, sicuramente non è stato mai coccolato e amato, però lui del contatto umano ha un grandissimo bisogno. In un primo momento l'abbiamo messo in un box fuori dal cancello del canile, un box molto grande con terra, erba. Lui ha potuto sicuramente correre, ma era triste. E allora l'abbiamo spostato all'interno del cancello del canile e quando andiamo via lui può scorazzare per tutta l'area di sgambamento. Ma a Enea questo non basta. Lui vuole stare con le persone, guardate, non si stacca da noi e quando noi ce ne andiamo si intristisce talmente tanto da fare pena. Lui potrebbe uscire da uno spazio dove ha la cuccia, nonostante il cancello sia aperto e questo cancello si affacci sull'area di sgambamento, lui nell'area di sgambamento non ci va mai. Lui rimane attaccato al cancello in attesa del nostro ritorno. Però cosa accade? Noi arriviamo la mattina, gli apriamo il box, lui ci salta addosso, è molto affettuoso, molto espansivo Enea e poi ci vede andar via e rimane ad osservarci e a disperarsi. Povero Enea. Il tempo passa, lui diventa sempre più grande e le possibilità di essere adottato diminuiscono. Chi vorrà adottare questo gigante buono? Non è più un cucciolo ma lui ha il cuore di cucciolo, ve lo garantisco. Enea sicuramente va d'accordo con le femmine, con i maschi sinceramente non abbiamo provato, abbiamo un po' di paura perché comunque ecco se devessero litigare lui è grande e grosso e chi li separa. Però non va a litigare contro le altre reti dove ci sono i cani, assolutamente, mai, mai, è sempre molto molto tranquillo quindi non escludiamo che possa andare d'accordo anche con cani maschi ma per sicurezza consigliamo l'adozione con cani femmina o da figlio unico. Enea secondo noi potrebbe anche stare in casa però lui ha bisogno anche di correre di spazio quindi l'ideale è una famiglia con spazio esterno ma che lo faccia stare a stretto contatto. Non vorremmo che andasse in una famiglia che gli proibisca l'accesso alla casa ci dispiacerebbe tanto. È vero Enea che tu vuoi stare il più possibile con le persone? È vero che non vuoi rimanere solo messo alla porta a fare solo la guardia? No no questo non lo permetteremo mai. Tu sei buonissimo e meriti una famiglia che ti consideri un membro a tutti gli effetti. Ci stiamo provando oggi a proporti. Sei bellissimo vedrai che ti noteranno, leggeranno la tua storia e chiameranno. Abbi fede, non ti preoccupare. Ciao piccolo, dobbiamo andare adesso, ci dispiace, ci lasciamo ma torniamo domani. Ciao Enea Ciao